La terra è di tutti e tutto è dono. E questo è il tema del secondo congresso medico città di Sulmona che si trarà il 10 e l'11 aprile al Teatro Comunale Maria Caniglia. La fedele etica e gli aspetti tecnici e sanitari della tutela della salute ambientale saranno i protagonisti di una due giorni. Si comincia con il rapporto fra etica, ambiente e fede il 10 aprile dalle 9 alle 12.30. L'evento avverto a tutti è organizzato da Alba Oxile della diocese di Sulmona Valva e patrocinato da Comune di Sulmona e dall'Ordine dei Medici dell'Aquila e intende dibattere con stile divulgativo i temi bioetici della fede connessi all'uso delle risorse della materia. Quest'anno nella prima giornata è previsto anche il coinvolgimento dell'intera popolazione e nella mattinata del 10 aprile anche degli studenti perché è importante restituire il creato così come ci è stato consegnato, hanno spiegato gli organizzatori. Noi dobbiamo continuare a dare un messaggio, a seminare, a cercare di far capire ai ragazzi che noi andiamo ad usufruire dell'ambiente di quello che ci è stato dato, ma lo dobbiamo restituire sia al creatore ma lo dobbiamo anche restituire a coloro che verranno. Quindi in maniera continuativa dobbiamo formare i ragazzi. Con il vista scientifico come saranno sviluppati gli argomenti? Saranno sviluppate su quelle che sono le tematiche comuni a più professioni. Ovviamente ogni professione dovrà poi apportare quel contributo di esperienza, di idea, di competenza sulla materia ambientale. Si entrerà nel vivo del congresso scientifico nel pompernicio del 10 aprile con la sessione congressuale dedicata alle varie professioni che si interfacciano con l'ambiente. Responsabili scientifici saranno Maurizio Proietti, Maurizio Cacchioni della Commissione Ambiente e Ordine dei Medici dell'Aquila e Luigi Valentini della Società di Medicina Veterinaria e Preventiva. La sessione è accreditata anche per i giornalisti grazie al presidente Stefano Pallotta. La mattinata di sabato 11 aprile i lavori proseguiranno con la sessione dal titolo Medicina dell'Ambiente responsabile scientifico Antonio Paoletti della Commissione Ambiente e dell'Ordine dei Medici dell'Aquila. L'evento è pietra miliare per lo sviluppo sociale, economico e scientifico della nostra città e quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio Comunale di Sulmona Franco Casciani nel corso della conferenza stampa di presentazione. Esprimo piena soddisfazione per il fatto che come abbiamo lanciato questo congresso medico l'anno scorso per una periodicità di 5 anni siamo giunti alla seconda edizione quindi significa che la prima ha avuto un ottimo successo sicuramente la riusciremo a duplicare con la manifestazione che andremo a fare subito dopo Pasqua e questa è un'altra pietra miliare posta sul lungo cammino che questa città sta affrontando per un rilancio economico, sociale ma soprattutto culturale. Si è raggiunto già il massimo delle iscrizioni per la prima giornata ma c'è ancora possibilità di iscriversi al sito www.albaoxilia.eu come ricordato il presidente di Alba Oxilia, Fagnani. Ci sono già tanti iscritti ma ci sono ancora anche tanti posti perché tra l'altro quest'anno le due giornate sono caratterizzate dalla possibilità di accesso sia per la popolazione, sia per gli studenti, sia per le professioni mediche e sanitarie. Grazie. 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 Grazie.